Anziani di categoria F, 1600 metri da percorre, 15 al via, seconda Tris, 1 Sansone Bar, 2 Zavedeo, 3 Zimox, 4 Smorghe Bar, 5 Uriel, 6 Velarda Lasol, 7 Veri di Casei, 8 Urukai, seconda fila, 9 Zivafont, 10 Ultimato Moon, 11 Adornigriff, 12 Uro Gallo Jet, 13 Zeno Egral, 14 Ultimo Free, 15 Ayrton Trebb. Problemi rimediati in fase di lancio da Sansone Bar, sbaglia Zavedeo, partiti. Zimox, Smorghe Bar, Vere di Casei, insiste, Smorghe Bar che passa dopo 150 metri di corsa, il lancio in 13,7. In terza posizione rimane Uriel, l'errore nelle retrovie di Zivafont, di galoppo anche Adornigriff, i 400 in 29 appena abbondante. Davanti alle tribune, Smorghe Bar, battistrada nei confronti di Zimox, quindi Uriel, aria in faccia, risale gradualmente Urukai, che lascia un paio di lunghezze, il treno esterno capeggiato da Vere di Casei, 43,9, i 600 iniziali da parte di Smorghe Bar. Si va sulla seconda piegata con Smorghe, leader, gli 800 iniziali in 59,7. La mossa di Urogallo Jet, decisa e convinta in aggiramento sul gruppo, sbaglia Urukai, che crea però in paccio a Urogallo Jet quando si va al completamento del chilometro 1,15 e 2. In vantaggio Smorghe Bar, ritorna sotto, aggressivo, quando si va all'imbocco della piegata conclusiva, Urogallo Jet in terza corsia, lato di Ayrton Trebb, di dentro Zimox per Berigli, anche Zeno e Graal, ingresso dell'addirittura d'arrivo con Smorghe Bar in vantaggio a 200 metri dalla conclusione, al suo inseguimento Uriel, più indietro rimane Urogallo Jet nel tratto conclusivo, Uriel che rimonta Smorghe Bar e viene invece sull'avversario, al terzo termina Urogallo Jet, 1,59,8 il totale, 44,5 in pratica gli ultimi 600 metri della testa, il successo di Uriel Crescenzo Maione, il numero 5 sul tabellone al primo posto, i colori del signor Ciro, testa, al secondo il 4 Smorghe Bar, al terzo il 12 Urogallo Jet, questo l'arrivo della quinta di Agnano. Grazie a tutti.